Gli investigatori continuano a tenere un profilo molto basso dopo quanto accaduto. Colpi d'arma da fuoco hanno causato sicuramente il ferimento di almeno tre persone. Il pastore 45enne Vincenzo Trubbi è stato colpito ad un piede mentre i fratelli Antonino Raitano e Ruben Raitano sono stati raggiunti dagli spari con ferite anche profonde vicende che secondo i PM della procura i carabinieri del reparto territoriale si incrocerebbero. Gli spari sarebbero partiti a causa di possibili dissapori tra i fratelli e la famiglia Trubbia. In carcere sono finiti Vincenzo Trubbia, i figli Giuseppe Trubbia e Rosario Trubbia. Quest'ultimo deve rispondere del tentato omicidio del Raitano. I tre sono attualmente detenuti e i loro legali, gli avvocati Nicoletta Cauchi e Filippo Incarbone, hanno deciso di rivolgersi ai giudici del Tribunale del Riesame di Caltanissetta. Chiederanno di rivedere le misure imposte agli indagati, una pistola calibro 45. I carabinieri intanto l'hanno trovata nell'ovile dei Trubbia incontrata a fiacca vento. Nell'accorso delle perquisizioni si sono accorti della profonda ferita al piede riportata da Vincenzo Trubbia che non si era rivolto ai medici dell'ospedale Vittorio Emanuele. Ci sarebbero stati diversi spari e in tre avrebbero avuto la peggio. Gli arresti sono stati convalidati dopo gli interrogatori.